Con una conferenza sui personaggi del presepe, Don Alberto Chiadò ha illustrato il 5 dicembre i contenuti della mostra che ha curato per la Biblioteca della Regione, una selezione di presepi provenienti da tutto il mondo, aperta fino al 18 gennaio. La mostra di presepi ci porta nel cuore del Natale, tutti attorno alla nascita di Gesù Bambino. Non può esserci il Natale senza che ciascuno di noi si senta interrogato, atteso, amato da quel bambino che si trova attorniato dalle genti di tutto il mondo. Cerchiamo anche noi di avvicinarci al Signore Gesù, lasciamoci chiamare da Lui, lasciamoci accogliere perché certamente la nostra vita può avere una marcia in più se in questo Natale sarà Gesù ad incontrarci. Per tutti i bambini che desiderano spedire una lettera a Babbo Natale, inoltre, la Biblioteca, in collaborazione con Poste Italiane, mette a disposizione una cassetta postale in cui imbucarla. Chi aderirà all'iniziativa si ricordi di apporre sulla busta il mittente per permettere a Babbo Natale di rispondere.